Oggi impareremo come si fanno i castoni. C'è un metodo di preparare i castoni proprio come li hanno fatti in antichità. La lamiera d'argento in questo spessore. Lo passo con la piazza. La mia nastra, con la pinza, prendo un pezzettino e ripiego. Quando avvolgo questa mia forma tonda, di questo pezzo farò il gancetto. E con la pinza tonda, a becco tondo, cerco di fare il gancetto. Ecco, abbiamo un altro castone a forma tonda con il gancio. Ovviamente questi castoni, pai da te, sono per gli allievi che vogliono darsi da fare. Gli piace, lavoro così, con le sue mani, ottenere forme diverse. Vi ringrazio molto per l'attenzione e per oggi la lezione abbiamo finita. Grazie. Grazie.